Incentivare il dialogo attraverso la cultura, questo uno degli obiettivi del progetto Caffè Letterario Tazzine e Libri, realizzato a favore della popolazione detenuta nell'istituto penitenziario cittadino e il cui momento conclusivo è stato presentato in carcere. Caffè Letterario è nato grazie alla collaborazione di uno street artist, Marco Cerioli, che insieme ai detenuti ha progettato e realizzato un murales ispirato proprio dai detenuti che hanno lavorato insieme a lui, quindi che hanno collaborato insieme a lui, e poi un corso base di caffetteria grazie alla donazione di attrezzature di macchine da caffè dalla Confessercenti di Cremona con la presidente Gaia Fortunati e Beppe Scolari che è stato il formatore. Successivamente, l'ultimo pezzettino, erano gli arredamenti. Gli arredamenti ha contribuito la cooperativa di Zincop con il signor Livio Ottoli, che ha predisposto il necessario arredamento affinché il locale avesse tutte quelle comodità per far sì che il caffè letterario potesse nascere e, come lei ha potuto vedere, gustare anche il caffè immediatamente. E lei è una grande fautrice di questo progetto? Io l'ho pensato, l'ho scritto e l'ho presentato al presidente della provincia e al direttore del carcere che lo hanno sposato. Senza queste figure, soprattutto senza la condivisione dell'amministrazione penitenziaria, nessuna progettualità è possibile promuovere all'interno del carcere, anche per il garante provinciale dei diritti dei detenuti. L'intero progetto è stato realizzato senza alcun onere grazie al lavoro di coordinamento del garante per i detenuti Ornella Bellezza e alla fattiva collaborazione tra la provincia di Cremone e la casa circondariale con il suo direttore Rossella Padula. La partecipazione è stata molto vivace, molto attenta, quindi hanno seguito tutte le lezioni, per cui il corso ha avuto anche un certo gradimento tra di loro, detenuti tant'è che hanno chiesto al signor scolare di continuare con ulteriori corsi di caffetteria. Nell'occasione sono stati consegnati ai partecipanti gli attestati di partecipazione al corso di base di caffetteria. Grazie. 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 Grazie.